Amici, buon pomeriggio e buon venerdì a tutti. Oggi sono di riposo e mi sto dedicando all'incinetto, una cosa che mi rilassa molto. L'avevo ripreso quest'estate, dopo sono andata in ferie e ho mollato tutto. Adesso mi è rivenuta voglia, ci ho sempre pensato, adesso l'ho ripreso. Sono andata a comprare dei gomitoli, lana e sto facendo delle mattonelle. E dopo vedrò cosa farci, se è una borsa, una copertina, vediamo quante mattonelle riesco a fare. Ecco qua, già giù sbagliato. Ecco. Come tutte le cose che faccio, io le faccio a occhio. Sto facendo un casino, aspettate. Come faccio le ricette a occhio, faccio pure l'incinetto a occhio. Mi regolo da sola con i punti e tutto quanto. Vediamo che riesco a fare. Lui se li facevo quando ero piccolina, poi non li ho più fatti. Adesso mi è tornata la passione. Vediamo. Ho preso tre gomitoli, gomitoli, 3 euro l'uno, carissimi. Pensate quando avevo un mercatino io, gli regalavo i gomitoli. Di lana vera a 1 euro l'uno. Questi sono pure sintetiche. Vediamo. Ho preso questi tre colori per adesso. Mi piacciono? Anzi, se c'è qualcuno appassionato di croquet, di uncinetto. Se mi dite qualche sito dove posso comprare del bel filato a pochi soldi. Ok, io vado avanti con le mie mattonelle. Buon pomeriggio.